Il picco di influenza è Covid che tra dicembre e gennaio ha costretto a letto migliaia di padovani è passato e si stia avviando alle fasi finali. La conferma arriva dai vertici dell'usleugane. Secondo uno studio però quella passata è stata una delle ondate di Covid più grande dall'inizio del 2022. Sulla carta sembra che la situazione si sia molto alleggerita ed è anche così perché i casi gravi si sono ridotti, ci abbiamo una frequenza molto minore, tuttavia possiamo ritenere che esiste una situazione per cui il Covid risulta sottodimensionato in quanto è calata la propensione a farsi il tampone come è percezione comune. Tuttavia esiste un dato statunitense dove esiste lo stesso tipo di problema che è andato a analizzare la presenza di virus SARS-CoV-2 nelle acque reflue e questo sembra indicare che ci siamo trovati di fronte alla seconda ondata più frequente dall'inizio della pandemia dopo quella del gennaio 2022. L'incidenza del Covid è rimasta bassa, nel padovano 18 casi ogni 100.000 abitanti, ma tanti non fanno più il tampone, i ricoveri per i casi gravi riguardano poche unità. Anche se chiaramente la situazione è molto meno grave, però esistono ancora pericoli per le persone anziane, quelle immunodepresse, quindi è bene continuare la politica della vaccinazione.